Giovedì pomeriggio Papa Francesco ha accolto Sua Maestà la regina d'Inghilterra e il duca di Edimburgo nel suo studio verso l'aula Paolo VI per il colloquio privato durante una ventina di minuti. Il dono di Sua Maestà è stato un grande cesto contenente raffinati prodotti commestibili provenienti da diversi possedimenti reali. Il Papa ha donato a Sua Maestà il facsimile di un prezioso documento conservato in Vaticano in cui il culto di Sant'Edoardo il Confessore, antenato della famiglia reale inglese e fondatore dell'abbazia di Westminster, viene esteso alla Chiesa Universale nel 1679 da Papa Innocenzo XI. Il Papa ha donato inoltre per il pronipote di Sua Maestà il principe George di Cambridge un oggetto artistico composto da una sfera di lapislazzulo sormontata da una croce di Sant'Edoardo in argento. A sua altezza reale il duca di Edimburgo il Papa ha donato il trittico delle medaglie del pontificato. Il corteo reale ha lasciato il Vaticano poco prima delle ore 16. Il Papa ha donato il trittico delle ore 16.